9 ore in gara, amore a Dio ci raggiungono tutti, Fernando Apollini e l'autore, Mattia Urella Mattia Urella, Mattia Urella è assolutamente già sedessa in piano, l'ho visto, perfetto però Mattia, dobbiamo chiedere anche a te il codice, quindi no no ma puoi stare vicino al piano se vengo io col microfono, allora Fernando è il codice, te lo facciamo ricordare 9? Perfetto, vado io dal maestro perché giustamente lui ha detto non mi assento metti che lo portino via nel frattempo, quindi giustamente, mi avvicino io codice? I perfetto, la faccio accomodare al pianoforte, Fernando Apollini, Mattia Urella in amore a Dio se tu ti resta un caffè, da ci mangiare al pianoforte, ma che se non è un caffè? solo risorse, che è un caffè? Ora che so come sia una risposta, senza fare qualche rumore e poi che so come sia un caffè, la corsa è una risposta, senza fare qualche rumore è un caffè? è un caffè? è un caffè? E penso che sarebbe facile far fuori tutti i miei disini due parole Amore a Dio Amore a Dio, Dio, Dio Amore a 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 Dio